Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori, quante volte ci siamo chiesti ma qual è il numero di ore necessario o giusto o qual è il numero di ore di sonno utile affinché il corpo possa rigenerarsi in questo video? Vado a leggervi un articolo, è contenuta la risposta, un noto scienziato afferma che il sonno è una delle cose più importanti che facciamo, non dormire a sufficienza è legato a un aumento dell'incidenza di molte condizioni tra cui caldo, disturbi autoimmuni e l'Alzheimer lo scienziato conclude stiamo lavorando a dei nuovi farmaci in grado di regolare il sonno e la vigna con questi nuovi farmaci Sarà possibile dormire di meno, avere lo stesso vantaggio Delle 8 ore di sonno amici di Youtube scrivete nei commenti qual è il vostro rapporto col sonno, devo dire che il mio è piuttosto buono inteso come quantità di ore di sonno, non dormo mai meno di 8-9 ore a notte e tutto sommato non ho mai avuto particolari problemi di salute Scrivetemi nei commenti soltanto a titolo di curiosità, quante ore dormite a notte e tenete ben a mente questi consigli forniti dal noto scienziato, io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento su Youtube Grazie 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 a tutti.